Noi abbiamo fatto una lista giovani, abbiamo inserito molte cose nel programma della lista giovani e con lo giovani uniamo il discorso dello sport, lo sport è un fatto fondamentale non lo dico perché lo dicono tutti, perché non solo io ci credo, non solo perché ai bei tempi abbiamo fatto centro sportivo, libertas eccetera eccetera, non solo perché abbiamo iniziato noi la palla a canestro facendo per chi non lo sa, cominciare a giocare con due cesti con brati all'asta giù al mercato ittico poi in piazza Sant'Antonio e poi io darò la palestra, sticatelo bene e vi racconta la storia Non solo perché ci credo, perché lo sport è educazione Allora dobbiamo continuare a riempire i quartieri, i quartieri di attrezzature sportive perché i ragazzi hanno fame di giocare e di impegnarsi e poi non dimentichiamoci, la medicina sport è la medicina più salutare per tante cose e in particolare per la droga